a voi in esclusivissima Boogie TV il poggetto Real Soccer facciamo vedere un attimo una panoramica di questo stadio comunque realizzato con tutto legno di recupero vedete un minimo di stadio che lo vogliamo mostrare fa comunque un bellissimo effetto e in questo stadio noi a cosa giocheremo? giocheremo al poggetto Real Soccer poggetto perché abbiamo un amico che è un nanetto che ha un cognome simile e quindi poggetto proprio perché lui si gioca con i tappi e niente come potete vedere lo stadio comunale onorevole Maurizio Montevecchi detto lo zio facciamo una piccola panoramica spero che possa piacervi ma poi entraremo in quelle che sono le regole del poggetto perché come vedete non è un normale campo da subuteo ma ha delle linee particolari proprio perché il poggetto è un gioco particolare chiudo con una bella zoomata nelle aree tecniche e nel settore Zani che è il settore diciamo delle persone ignoranti e poi anche su questa meravigliosa curva un abbraccio